allora stanotte alle 5 e 5 hai voluto essere imboccato come mai avevi bisogno di affetto che volevi la mamma e piange finché la mamma non si è alzata proprio così io ti parlo e tu ti lavi i zampini e sbadigli ma fai sempre queste due cose qui davanti all'obiettivo perché ma quegli zampini che possono sporchi lo stesso che tu vai nel cantiere sono anche umidi sono umidi sti gommini e ruvidi sei un patato sei un patato sei un patetone qui ci grattiamo un po troppo però la mamma ancora non ha comprato l'antiparassitario mamma 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 negligente adesso ti pettino io